Il ristorante e pizzeria di Garocca è specializzato nella cucina a base di pesce. Siamo aperti dal 1998 sempre con la stessa gestione, un locale accogliente, caldo e amichevole, con uno staff sempre sorridente, pronto e disponibile per soddisfare i gusti e le richieste dei nostri clienti. Siamo aperti tutto l'anno in un via Olanda 20 Yesolo Ligo, Ti aspettiamo in tanti per passare una bella stagione estiva insieme. Ernesto, Maria e lo staff del ristorante ti aspettano numerosi. Siamo aperti tutto l'anno in un via Olanda 20 Yesolo Ligo. Siamo aperti tutto l'anno in un via Olanda 20 Yesolo Ligo.